buona sera vi ho fregato oggi si, oggi non mi va di chiacchierare quindi siamo andati direttamente nella schermata di gioco ma voi dovete essere più, dovete cogliere anche quello che c'è sotto la transizione è quella la vera essenza del professionista e del pro vi ho dimostrato che dovete allenarvi di più a cogliere quello che c'è sotto alla transizione buonasera franciccio, buonasera pietro, come state? tutto a posto? perché il tuo è in cooldown? bella domanda bella domanda ah perché ti ha calcolato allora lo avete fatto contemporaneamente credo solo che avendolo fatto prima tu franciccio quello di pietro non è stato registrato quindi è come se non l'avesse fatto credo credo che il il motivo sia questo perché si è configurato esattamente come tutti gli altri quindi si, credo sia per questo lo avete fatto contemporaneamente con plottone eh no, no e io vi stuzzico vi metto alla prova ogni tanto ma è giusto che sia così, no? una specie di vittoria morale esatto pietro, grazie buonasera ma ancora sta qua quel mister olcoso? è certo che sta qua non ce lo siamo ancora scrostato dai cojones? no con la sua simpatia erano meglio i pidocchi no, non è vero non sono d'accordo grazie, grazie tantissimo pietro tra l'altro proprio quattro anni tondi tondi cioè, ti rendi conto quattro anni? boh sta diventando sta diventando vecchio sto canale bisogna bisogna ammettere che ha fatto il suo tempo e che deve lasciare spazio ai giovani devo aspettare mezz'ora eh, oh è vero, sì sì, sì, sì vabbè, te lo faccio io, dai te lo faccio io credo che io possa farlo, no? ok io posso fare tutto perché io sono il boss wow va bene, intanto che dico cazzate carichiamo il gioco come cazzo fai? hai fatto ad arrivare a quel cooldown no, no, il cooldown quello è normale che è mezz'ora il cooldown per i suoni per i suoni boss no, no, no non volevo ricominciare da capo no no ok il cooldown per i suoni personalizzati è mezz'ora, è normale non l'ha fatto eh, ma come vi dicevo prima lo avete fatto in contemporanea solo che ha preso solo il suo cioè è come se li avesse fatti non l'ho capito sinceramente anzi, sì mi sa che durante la sigla ha preso quello di franciccio che poi è andato in cooldown ma il tuo Pietro non l'ha preso perché lo avete fatto in contemporanea è come se non l'avesse considerato quello tuo no, no, no il suono l'ha fatto come no? certo che l'ha fatto voi non l'avete sentito perché durante la sigla voi non sentite i suoni ma io ma io sì cioè il il bot non lo sa che c'era la sigla quindi comunque l'ha mandato il suono vedete voi che non l'avete sentito allora noi eravamo rimasti in questa bellissima mappa nell'ultimo nell'ultimissimo direi corridoio buonasera workiter benvenuto regole le regole dovresti averle lette all'inizio quando hai prima di di aver inserito il il tuo primo messaggio comunque sono sono le solite regole di di comune sopportazione e morale ecco sì sì certo 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 assolutamente io l'ho sentito però chiaramente durante la sigla non c'è il canale quello del del desktop no? se no si sentirebbe un casino allora io niente io non so che cosa che cosa aspettarmi che soprattutto che ordine con che ordine dovrei attivarle però ci proviamo vabbè io vado con la prima non è successo niente ah forse c'è un c'è un codice tipo eh però quale sarebbe questo codice? cioè dovremmo aver avuto degli indizi in giro? ok non so non lo so in realtà se avremmo dovuto avere degli indizi in giro probabilmente sì però ecco insomma l'ho l'ho risolto ok probabilmente non era da risolvere con con degli indizi in giro anche perché non mi sembra di aver trovato nulla in giro vero? giusto? non c'erano cartelli o cose del genere e non c'erano delle pergamene non abbiamo trovato nulla quindi alla fine non avessi toccato per sbaglio ok 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 hai toccato per sbaglio ok ma guarda sono le solite rispetto fate i bravi appunto come diceva Pietro niente spoiler se leggete nel titolo che è una blind run e che non voglio spoiler eccetera chiaramente cercate di non farli basta niente di che fate i bravi esatto nessuna regola particolare alle solite esatto no backseating no spoiler eccetera eccetera comunque dovrei averle messe no in realtà non ci sono perché sono in live in questo momento sennò dovrebbero essere nel tab quello quello generale delle informazioni oh livello 5 attenzione attenzione livello 5 comunque benvenuto questa sera ti è capitata la serata dedicata ai dungeon dungeon crawler amiga fatti come si facevano un tempo con le mappe disegnate a mano perché a me piace molto questa cosa non so perché diciamo che è una cosa abbastanza masochistica ce la posso fare soprattutto quando non riesco a usare il tool livello 5 è abbastanza masochistica in generale perché considera non so se tu conosci più o meno l'universo dei dungeon crawler ma considera che abbiamo giocato in questo modo a eye of the beholder black crypt e tante altre perle e in quei casi lì la situazione era parecchio più complicata rispetto a questo gioco che è moderno ma diciamo almeno per il momento non ha non ha non ha portato level design particolarmente complessi però c'è da dire che in questo caso in questo caso tra l'altro neanche madonna è andata di verso l'acqua non ce ne sarebbe neanche bisogno in questo caso della mappa perché perché il gioco integra un tool di disegno automatico come puoi vedere solo che a noi piace tanto fare fare le cose complesse quindi io adesso utilizzerò la mappa per capire dove siamo 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 a ovest così posso posso iniziare nel punto giusto allora siamo qui no livello 4 perfetto eccoci vi 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 leggo noi lo abbiamo scelto apposta per disegnare le mappe quindi se non lo facciamo perdiamo la metà del divertimento si infatti voi siete masochisti che è vero lo avete proprio scelto apposta questo questo gioco da tutta la serie che c'è nel server discord oh c'è qualcuno allora devo ricordarmi come funziona come funziona ecco così funziona perfetto ti faccio danni 4 danni ma io ero maledetto o sbaglio non sono più maledetto madonna questo quanto è forte esatto nino ma tu chi saresti skeleton warrior ma mi fai malissimo ragazzi era fortissimo questo devo capire se sono maledetto si sono maledetto c'è scritto come si faceva a ovviare a questa cosa della maledizione e vamos vedere il manuale devo ricordarmi dove l'avevo messo come al solito ovviamente perché non me lo ricordo mai l'ho messo qui no l'ho messo qui si ecco ora vi faccio vedere vi rendo partecipi allora maledetto 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 non mi ricordo come si faceva a togliere forse con un incantesimo semplicemente che non ho ancora trovato allora andiamo a vedere nell'elenco degli incantesimi allora no no questi non sono gli incantesimi eccoli qua restorative poison state cursa ed eccolo qua benediction no mi sa che l'unico modo è benediction ora farò una ricerca testuale all'interno del documento per vedere se magari c'è anche qualche altro modo ma non credo cursa ok la destrezza e la statistica mind sono dimezzate cacchio quindi praticamente cacchio abbiamo la difesa e l'attacco con gli incantesimi è a distanza penalizzato benissimo solo con benedizione possiamo possiamo curarci molto bene questa è una cosa interessante devo dire ecco perché tra l'altro ci stanno facendo parecchio male perché abbiamo la difesa più bassa e gli facciamo meno male da lontano però no cacchio non solo da lontano proprio in generale con gli incantesimi credo no abbiamo detto che i danni non vengono non vengono inficiati restore 10 HP e restore tutti gli HP e restore tutti gli HP voilà ok non vengono inficiati i danni degli incantesimi ma solo l'utilizzo di mana oppure il pool di mana che abbiamo a disposizione forse il pool di mana non lo so non mi ricordo ho ancora l'uccellino di Twitter eh lo so ma non non mi va non credo che abbiano cioè che quelli che mi hanno fatto il tutto il tema abbiano abbiano fatto questa modifica sinceramente e poi sinceramente sapete che c'è per nostalgia lascio l'uccellino di Twitter senza senza la X mi piace come cosa proprio farla apposta oh ci sono degli stivali oh c'è anche una 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 cosa scritta sul muro che dovrò ovviamente mettere ok che c'è scritto c'è scritto le illusioni sono la sono la via all'insanità insomma alla pazzia PAVE che vuol dire secondo voi PAVE 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 pavimentare ma che no ma che stai dicendo ma che spanish ma che succede aiuto english italian ma scusate ma perché perché c'era e vabbè english ma perché spanish ma è impazzito word reference english italian pave pavimentare ah ok pavimentare quindi le illusioni sono le illusioni pavimentano la strada per la pazzia beh questa cosa è molto bella devo dire molto bello il logo è lo stesso eh no dovrebbe essere x no dovrebbe essere una x ormai non è non cioè che poi sarebbe la x quella classica di tutte le le aziende di di mask sì sì anche anche il logo in generale mi sa che o sei tu che non l'hai aggiornata perché io io su ios ce ce l'ho aggiornata e c'è l'ex c'è la x ok poi 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 pantaloni no e boots steel boots però vedi questa cosa ah no no aspetta per vedere le caratteristiche devo fare così più due difesa più 10 per cento critico difesa mentre le mie sono più una difesa ok le cambiamo ok infatti è cambiato perfetto e questi li lasciamo qui il disegno i pantaloni i pantaloni perché so perché ma sono rincoglionito stasera i boots boots i stivali è rimasto quello vecchio boh è strano però molto strano allora io andrei prima giù non so così perché mi sconfinferà così ok e qui c'è un'altra stanza vuota va bene perché vuota cioè perché se stanze vuote ma vi ricordate se c'erano delle stanze vuote anche in iodb holder a me non mi sembra che ci fossero così tante stanze vuote o perlomeno se che cazzo era merda sei molto grosso sei molto molto grosso credo che tu mi ucciderai no in realtà no 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 pietro mi dissocio merdissimen ok ma cos'era quel rumore era il lo scheletro che che moriva sembrava una slavina più che uno scheletro che moriva comunque ok oh qui c'è qualcosa uno scudo che io non posso usare benissimo molto bene eh sì vabbè uno scudo qui aspetta io sto scrivendo un po' in inglese un po' in italiano che schifo mamma mia stivali boh ok che anarchia che anarchia è speranto esatto ok ok andiamo su immagino ci sia un qualcosa di simile infatti c'è qualcosa di simile oh 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 eh però stavolta stavolta mi preparo ah non mi preparo di qua c'è qualcuno no sì mi preparo decisamente sette danni cinque danni pom pom mamma mia ma io ma io non lo so chi sono non lo so proprio guarda vuota ovviamente vuota questa e vuota questa ah no questa non è sì scusami che abbiamo per caso trovato il modo del gioco di comunicarci o di suggerirci molto poco velatamente direi i passaggi segreti mi sembra abbastanza palese questa cosa no sono d'Arche giusto grazie beh io io andrei allora secondo me devo andare avanti cioè una parete illusoria no eh immagino di sì infatti eccola qua ma però così che brutto oddio allora da un lato è molto comodo devo dire perché almeno evito di sbattere come in I've the Beholder su tutte le pareti per trovare quelle finte però così così è sono buoni tutti lo so è un ho diciamo ho un mix di di sensazioni in questo momento sono un po' confuso e un po' e un po' in realtà appagato perché è decisamente più comodo così oh c'è un buco ah ecco qui per esempio servirebbe parecchio il servirebbe parecchio il il salto che non ho però se te le mostro nella mappa che senso è bravissimo è quello che ho che ho detto anch'io infatti qui davanti a me c'è un simpatico buco questo che allora a questo punto immagino di dover di dover centrare per forza salviamo vado eh casco è un buco finto eh chi è quello ma è un buco finto oppure sto lievitando sto lievitando oppo bacco no non sto lievitando salve cioè cos'è quello non mi fa andare avanti ma che succede ragazzi ma si è impallato ok sono caduto ah no c'è qualcosa che non va perché ho visto succedere cose strane vabbè intanto facciamo così no aspetta quella quella non l'ho messa prima ok no c'è qualcosa che non mi cosa allora questo questo è un buco finto ok poi qua mi qua mi da qualche ma perché si entra da qui e non da lì sono oddio c'è anche c'è anche la parete illusoria al contrario cioè che no questa è carina devo dire cioè non l'ho mai vista in vita mia la parete illusoria al contrario cioè che sembra che non c'è il muro ma c'è il muro è bellissimo vabbè il buco è finto ora aspettate un attimo voglio capire se ho usato quel simbolo altre volte non mi sembra no qui si l'ho usato però questo possiamo toglierlo tanto oddio si in realtà vabbè chi se ne frega questo li tolgo così lo uso per segnare i i buchi finti che è importante no quindi bambini i buchi finti sono questi ok mi raccomando ok però adesso c'è il mostro qui che mi farà un bel culetto quindi vado vado eh pom niente mi ha raggiunto subito questo è quello che fa il veleno tra l'altro il buco non ha bucato e il passaggio non ha passaggiato esatto è proprio esattamente così è proprio la terminologia giusta direi direi che è ok oh che cos'è oh un incantesimo un incantesimo apriamo il menu qua aspetta cos'è fireball però com'è che era la situazione devo prenderlo in mano per forza si vabbè questa te l'ho proprio chiamata Pietro allora questo fa 3-8 danni questo fa 8-12 danni beh beh direi che la palla del fuoco si può si può mettere ora dovrei capire però qual è la la parete no non c'è questa è finta questa è vera ok e ok aspetta aspetta che non ce sto capendo niente quindi qua dovrebbe esserci qui c'è un buco che non so se è vero sarà vero ah sì sì questo è vero perché ci sono caduto prima quindi facciamo che questo è vero e quindi io devo andare di qua per ah per circumnavigarlo perfetto ok simpatico vai vai dai devo dire che è molto carino cioè è fresco è fresco vabbè è insomma si vede che cercano di di metterci originalità e non è per niente facile perché il genere è veramente saturissimo sono troppo forte per questi serpentelli eh sì sì cioè sono 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 forte sì allora qua c'è una porta con un pulsantino c'è qualcuno lì no pulsantino ok e io proseguirei un attimo qui c'è addirittura un crocevia ok ok qui qui c'è un muro finto che però mi suggerisce che dall'altra parte c'è un simpatico tetra sporto qui praticamente devi devi andare salve devi andare avanti seguendo la mappa non non seguendo i tuoi occhi salve buongiorno come sta lei vediamo le palla di fuoco aspetta quanti danni fa questo 3 8 8 12 eh cazzo sì non è che mi faccio male io però però porca miseria non ho dormito quanti danni io ho fatto 5 5 come 5 da 8 a 12 e io ne ho fatti 5 in che senso questa è meccanica delle pareti che fanno le finte le finte delle finte non è male sicuramente sì è carina devo dire ecco perché le illusioni lastricano la strada della follia bravo stavo pensando esattamente a quello due secondi fa vabbè io devo per forza bere la pozione perché altrimenti non e ora quanti glielo ho fatti 6 ah forse ha delle forse ha delle riduzioni lo scheletro anzi sicuramente quindi magari alla fine gli faccio più male con questo panino vabbè allora qua è fatto così qua è fatto così e qua c'è un muro illusorio il panino che faccio me lo mangio no me lo porto appresso però urgono assolutamente pozioni di mana ci sono enemies dice madonna ti intrippa tantissimo questa cosa che vedi vedi una cosa e in realtà è un'altra ok qua c'è un ricarico di mana ok ora devo andare per forza di qua quindi oh lì c'è un pulsantoide vabbè non posso colpirlo c'è il muro giusto giusto non posso colpirlo perché c'è il muro oddio ma questi ma siete bastardi però qui è chiuso aspetta aspetta devo aiuto aiuto non mi ricordo più dove sono sono qui ok ma qua praticamente è fatto così così e qui c'è un un pulsante proprio proprio qua è proprio lì un pulsante ok bene molto bene ah però aspetta perché ce n'è un altro di qua giusto sì così vediamo che cosa c'è di qua niente ovviamente ok la situazione è questa ok allora io ah una leva cioè qui c'è una leva non è un pulsante ed è qua sotto va bene e la leva per forza devo devo tirarla ok si è aperto di qua perfetto quindi questo non c'è più ma al suo posto c'è un bellissimo per l'etasporto oddio il punto calcola con la matematica alternativa no 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 perché giustamente mi sono ricordato che ci sono le le resistenze agli elementi quindi evidentemente c'è un che so 10% 20% al fuoco e quindi gli fai meno è un pulsante messo apposta per fregarti e non lo so secondo me adesso andiamo in giro e magari troveremo una leva che fa scomparire quel muro lì forse vediamo andiamo nel vabbè dove siamo oddio siamo lassù ok eh ma questa non posso disegnarla ancora perché altrimenti guarda che bastardi perché altrimenti mi mi manda in pappa tutta la mappa beh questo deve essere finto per forza ok guarda non ci si capisce un cazzo oh questa mi serve questa mi serve mangiava il panino oddio non ci capisco niente salve buongiorno anche lei qui che bello che coincidenza in tutto ciò ho bambini e bambine io sono ancora maledetto non so se vi vi rendete conto eh capito esatto io mi curerei di 10 non è servito a niente benissimo ok ok ora va meglio restore quanti a 10 ok quello non serve più a niente e dai muori però muori oh oddio per un pelo non posso salvare non posso dormire ho paurissima cerco di allontanarmi per dormire no non mi fa dormire qui mi fai dormire qui oh si che bello salvo ok allora vabbè qui scusate se non sto disegnando ma non posso perché ah si aspetta aspetta forse se mi avvicino di qua riesco a ricongiungermi con la mia testa no un'altra pozione va bene andiamo di qua salve mannaggia voi quanti danni gli faccio a questi con questo con cinquantesimo zero comunque gliene faccio di meno della palla di fuoco direi quindi andiamo avanti con palla di fuoco anche se consumiamo un fracco beh cavolo molto meglio con la palla di fuoco allora e forse da qui riesco a iniziare a disegnare c'era qualcosa per terra si no no non posso raggiungerlo no così vicino eppure così lontano vabbè dai cerchiamo di disegnare piromanzia suprema si esattamente no perché tanto comunque riduzione del danno per riduzione del danno a questo punto è molto meglio fare comunque un pacco di danni in più che cavolo allora disegno si ce la dovrei fare momento momento disegno quindi potete non so andare a fare la ppi o cose del genere se volete oppure potete anche suggerirmi cosa devo fare perché non è che ci stia capendo molto ma dove sono ah so qui ok 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 non è proprio facilissimo allora uno due ok quindi qua praticamente è fatto così giusto non so perché mi abbia mi abbia disegnato questa cosa qui nella mappa però me l'ha disegnata e io chi sono per non approfittarne di decisamente nessuno quindi eccoci qua dovrebbe essere una cosa del genere io sono qui speriamo bene non mi fa di buttare tutta la mappa all'aria ho sbagliato spè 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 così qui ho sbagliato già ecco dovrebbe essere qui così ok aiuto perché non seleziono gli strumenti giusti ok sono qui ce l'abbiamo fatto sono esattamente qui bene allora la palla di fuoco è sempre la palla di fuoco eh sì la palla di fuoco non si scorda mai e allora qui è aiuto così e così poi qui va sopra così buongiorno ho una palla di fuoco per lei abbiamo quanti danni gli faccio 9 9 e 5 beh beh io direi che è molto meglio molto meglio no molto meglio sto impazzendo ve lo dico perché è giusto che lo sappiate cioè perché veramente è tremendo che qui c'è un buco sarà vero salvo vado eh no è finto è finto ed è qui giusto 1 2 3 1 2 3 sì che casino ah ok qui è dove ci ricongiungiamo con l'altra parte interessante va bene questa questa pozione la prendo molto volentieri la metto al posto di questa ok che roba aspetta però qua ho sbagliato mi sa qua è chiuso così ok tremendo questo livello è tremendo metto 5 oh guarda no aspetta quello però è finto non posso non posso in realtà arrivarci stavo per sparare la palla di fuoco al muro invisibile bellissimo ok quindi dove siamo siamo qui questo sarà palesemente finto giusto che cazzo sei tu undead knight mamma mia questo fa malino 8 danni morto wow sono abbastanza forte buco finto sto resistendo all'impulso di disegnare quello che vedo invece sto cercando di disegnare quello che c'è nella mappa meno male che c'è madonna pensa se ci fosse la mappa cioè pensate questa meccanica grazie pensate questa meccanica in eye of the beholder con tutto il level design bastardo loro ho sbagliato no ma sto sbagliando veramente di brutto qua aspetta ok ok e quindi l'impossibilità poi di confrontarsi con una mappa che viene generata in tempo reale quindi praticamente te la devi disegnare tu a manina allora qui c'è un palese buco finto spero ma io andrei giù prima infatti salve dicevo ma perché non mi va indietro perché c'è un simpatico amichetto ciao trish buonasera qui ovviamente è tutto chiuso stiamo impazzendo trish stiamo impazzendo con un livello ok sto qui stiamo impazzendo con un livello e in cui ci sono delle oh ecco eccolo quello che vedevamo dall'altra parte un bel anello stiamo impazzendo con un livello che ha delle pareti invisibili oh reveals dungeons illusions quindi adesso vedo 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 bene oh oh che bello ma che carina questa cosa che alla fine dell'impazzimento ti trovi l'anello che che ti fa tornare un pochino più sano di mente molto carino bravi quindi ora posso vedere che non c'è ah c'è un buco quindi quindi immagino sia vero questo faccio la prova poi in caso ricarico infatti dovrebbe è vero e dove sono finito sono finito qui non mi va di finire lì scusatemi era solo una prova ok quindi questo è vero ops questo è un vero buco ok mamma mia il kraken sta meglio grazie qui non c'è niente sono dei giochi che amo proprio molto esattamente ma a quanto pare li amate anche voi perché l'avete scelto voi no in realtà non è proprio corretto che l'avete scelto voi cioè tra tutti i titoli che avevamo deciso di fare avevamo poi deciso di di andare per ordine di durata però non avete non avete protestato ecco anzi oh oh salve palla di fuoco palla di fuoco palla di fuoco ciao dormire ottimo ti ci vedo da piccolino con le mappe guarda ho ancora i i quaderni con le mappe di I of the Beholder e non ero piccolinissimo cioè non è che fossi piccolino perché I of the Beholder del 96 97 no 95 forse me lo immagino me lo immagino sempre anche io come quel personaggio di Monkey Island aspetta quale che cosa adesso vedo bene ah gli occhiali bravo esatto bravissimo devo dire che io forse ero l'unico a spingere per farlo forse aspetta qui c'è una leva qui si è appena iniziata la terza stagione di Mr. Robot ui ma che bello bellissimo quella serie bravi mi è piaciuto un sacco finalmente tra l'altro una serie informaticamente attendibile e veritiera ok sono sempre piacevoli ma io lo spero perché comunque io mi chiedo sempre se vi annoiate a vedermi sbattere a a disegnare la mappa ok si è si è aperto chiuso oh no c'è un teleport qui attenzione ah forse questo è quello che ti riporta dall'altra parte perché ricordiamoci che qui stiamo stiamo praticamente in una zona chiusa no però aspetta aspetta io devo finire di devo finire di esplorare qui darcio 16enne eh si io ero aiut e behholder ero alle superiori già si o quasi no 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 superiori l'amica ce l'ha avuta nell'86 no l'ha avuta l'ha avuta l'ha avuta l'ha avuta non erano gli superiori allora con I of the Behold non mi ricordo ah grazie franciccio 91 no ma io ci ho giocato dopo credo perché nel 91 penso che neanche avessi no aspetta si che come no 14 15 si si ero qua ero ero in prima superiore e ho scoperto gli eye of the beholder credo qualche anno dopo insomma della loro uscita comunque si anche il codice che fanno vedere è reale in python si 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 no no è tutto vero ma poi adesso non vorrei fare i spoiler no e non posso farli quindi vabbè diciamo che c'è anche un raspberry pi che compare da in un certo punto e viene usato veramente tanto 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 bene ma proprio tanto bene proprio da applauso comunque non dirò altro si si guarda tutto quello che scrivono ti confermiamo io e pietro che è tutto esattamente come sarebbe nella realtà è molto molto accurato cioè la shell linux compare tantissimo gli script in python gli script da shell appunto linux un sacco di cose molto molto veritiere nel 91 ancora non è rinato come no si no c'è ragione nel 93 porca macca vabbè nel 91 però è uscito io nel 91 non non ci ho giocato io ci ho giocato nel 93 credo quando tu nascevi pensa pensa franciccio la mia esperienza con eye of the beholder alla tua età alla tua età comunque vabbè io sono curioso vado mi spiace ho sbagliato non dovevo andare perché non mi faccio i cazzi miei salve lei lei è cattivo per caso credo di si ma io sono molto più cattivo di lei a quanto pare oddio tu sei cattivo ammazza tu sei lontano però disintegro con le palle di fuoco ok informaticamente c'è una cura e un'attenzione maniacale quello che fanno informatica sì 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 sono totalmente con te quindi allora in generale è fruibile ed è molto ben realizzato per una persona che non capisce anche nulla di informatica quindi figuratevi perché ci capisce veramente veramente figo ma io non sto disegnando però questo è vero ovviamente non sto disegnando perché perché non sto disegnando perché non so dove sono ah ok sono qui ok allora disegnirò tra l'altro immagino che ci siano siti siti e siti con che spiegano esattamente quello che c'è in in mister robot 1 2 3 4 così è una roba del genere giusto no non è giusto così così aspettate aiuto sto 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 impazzendo 1 2 3 sono 4 è giusto ah no ho sbagliato qui ok così 1 2 3 qua ne ho fatto una in più ok quindi abbiamo detto che è così è così bene ora sì e c'è un buco qua sarà vero perché se no non lo vedrei lo vedrei non lo vedrei in realtà ok ah qua posso disegnare roba scura perché tanto così ci si capisce un po' di più tra l'altro ci dobbiamo tornare qua perché non c'è mi manca tutta questa zona poi questa cosa qui vabbè ok la prima mappa di darshall ha l'età di franciccio bravo brava esattamente è incredibile se ci pensi allora siamo qui cioè è incredibile rendersi conto quanto sono vecchio quello intendo oh no ma non ti avevo visto però 17 danni ah io ho fatto critico minchia porello ma porello proprio allora qui è così e così e così e così ti dai errore l'iPad? hai freddo? oh mio dio pensa che qua facevano 18 gradi oggi oggi sono uscito a fare delle commissioni stamattina mi sono dovuto togliere il giacchetto faceva troppo caldo signora mia non ci sono proprio più le mezze stagioni allora mamma mia che casino però ho difficoltà con le mappe con le aree un po' un po' più diciamo ampie come al solito salve quando Dash fa il kit io me lo immagino che dice così tipo ti metterei un 8 su 10 esatto yeah domani vedete di un 2 oh che bello noi dobbiamo ancora vederlo ma tanto immagino che ormai dobbiamo lo lo noleggere ah no stiamo aspettando che esca per le piattaforme di streaming che a noleggio oh abbiamo siamo passati di livello e io qua sono sempre in dubbio però mi sembra che la la vita ancora regga cioè che dite? cioè a me sembra che la vita ancora regga quindi io andrei avanti di Mind fino alla notte di tempi no? che dite? finché regge mamma mia non ci sto capendo caspito ok vabbè me lo fate a posto però eccolo sei danni cinque danni sette danni o stai reggendo un po' troppo è per i miei gusti caro bravo eh muori grazie e così bene spero di non lo so che cosa sto disegnando spero spero di stai disegnando qualcosa di sensato abbiate pazienza ok qui c'è una classica stanza che piace a loro e che vi stavo ah sì che stiamo aspettando che esca nelle piattaforme di streaming a noleggio dovrebbe essere abbastanza imminente la cosa quindi appena appena lo mettono lo noleggiamo devo dire che non vedo l'ora ecco sono molto curioso anche perché ho sentito belle cose allora qui non ci aspe 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 che ho fatto qua ah no è giusto è giusto qua c'è il giringirello giusto sì poi qua fa così madonna che casino di mappa però e qui c'è una leva sembra giusto no noi siamo str esatto mi ricorda qualcuno no comunque no in questo caso non siamo str no sto facendo il mago il glass cannon a quanto pare anche tutte le ricette di food wars sono reali per questo mi viene sempre una gran fame quando lo vedo ha provato a collegarmi con le pelle ah ok qui invece di mattina di sera fa freddo di pomeriggio invece fa caldo ma allora qua il pomeriggio è assolutamente inconcevibile sono 19 erano 19 gradi oggi ragazzi mentre la notte la mattina presto ma credo che al massimo faccia 10 gradi cioè una roba veramente assurda no dai 10 gradi non è freddo non è vero freddo certo non dentro grasa ovviamente ah intendi 18 gradi beh se ci sono 19 gradi fuori dentro casa anche se tieni le finestre aperte insomma è quella la temperatura più o meno beh 12 gradi in casa no cioè non va bene a mamma fanno male le vene ahhh beh ma 12 gradi cavolo cioè sono troppo pochi questa live è iniziata con Darcia che diceva che il level design delle mappe di questo gioco tutto sommato è abbastanza lineare esatto bravo e invece hai sonno eh lo so 10 gradi è freddo se c'è vento eh sì esatto se piove sai con l'umidità sì per carità beh però fuori casa giustamente noi noi ci copriamo no cioè dentro casa no dentro casa oh cacchio questo fa male dentro casa 12 gradi dovrebbero essere illegali ma vedi però allora vado eh disegno disegno ma chi me lo fa fa io non ho ancora capito questa cosa oh c'è c'è un salve madonna con la palla di fuoco cioè veramente ormai spacco tutto aspetta che disegno il portalino stavolta non entro subito volevo finire prima di esplorare qui quindi lo eviterò pizzo oh devo dormire grazie abbiamo pensato nello stesso momento ok qui è la solita stanza quella circolare con con la croce in mezzo quindi facciamo così credo credo che però lo sta disegnando la mappa bene perché mi tornano le i punti di riferimento va bene allora mi manca questo pezzo qua ecco perfetto è comoda la palla di fuoco perché quando sono lontano gli dai due sberle mentre si avvicinano praticamente gli bastano quelle per morire credo che non ci sia nulla qui bene bevi già bevo ok bevo trisci trisci vai via ciao buonanotte mi raccomando copriti in casa io ho termostato fisso a 22 gradi sai che sei fuori legge francisco dovrebbe essere massimo 19 20 dove vivo io anche se pensi che fuori sia decente fa freddo lo stesso ma forse sono solo io dove vivi se posso permettermi tipo al nord 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 che avete ma io mi chiedo in questo inverno che non è stato inverno nei posti molto a nord comunque insomma dove di solito magari c'è anche la neve o il freddo il vero freddo sotto zero o zero gradi ha fatto ha fatto freddo un pochino oppure siamo tutti nella stessa situazione io prenderò un bue che mi riscalda col fiato un bue oh zurigo cavolo beh lì lì è abbastanza rigido no che temperature avete in questo periodo a 20 gradi devi metterti la felp madonna ragazzi ma a 20 gradi è giusta come temperatura siete freddolosi niente di male tra l'altro insomma io vivo con la regina dei freddolosi quindi non posso dire nulla aspetta oh guarda che belle palle di fuoco che ti prende in bocca una due e tre bello devo dire che è una soddisfazione salve a sparare le palle di fuoco così lontane vieni non vieni ah non vieni perché c'è il vabbè sei un po' stupido sei un po' stupido ho filo il mano torno subito aspetta aspetta ti muovere ti muovere faccio un pisolino ti muovere sei ancora lì? oh sei ancora qui grazie tieni molto gentile ad aspettarmi aspetta che però devo disegnare che non ci sto capendo un cacchius allora siamo dove siamo? siamo qui ok qui quindi qui c'è questa sorta di stanzina con il pilastro in mezzo immagina Milano e togli 3 o 4 gradi grossomodo va così ok Milano Milano penso che sia più o meno no forse qualche grado in meno di Roma quando fa freddo ok beh dai quello è un bel clima cioè è freddo davvero non come qualcuno che si lamenta che 20 gradi deve mettere la felpa ok qui c'è una leva io questa leva però per il momento non la muoverei volevo prima capire la situazione ci sono un sacco di buchi tipo 1 2 e 3 bene una roba del genere c'è qualcuno si ti ho visto mascherino ti prendo? oh si ti prendo 9 danni 7 danni fine danni che c'è franciccio? ti ho colto nell'orgoglio c'è un panino allora così e così giusto e poi ci sono altri tre buchi qua devo stare attento però non c'è niente non c'è niente che abbiamo finito così? va bene e a che dovrebbe servirmi questa cosa? ah è perché c'è la leva attenzione attenzione giusto ero già dimenticato la leva ma hai salvato? no non ho salvato uno sprezzante hai salvato? no 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 è il salvataggio ah guarda un po' si è creato un ponte oh si è creato un ponte con l'altra parte bello bello però adesso torno indietro perché devo finire di qua molto bello siamo finalmente in grado di tornare a capire cosa c'era dall'altra parte però aspetta 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 perché devo fare questa cosa qui così salvaste franciscio è preciso ho anche messo l'interrogativa come giustamente dovrebbe essere fatto ah ecco questo ci dovrebbe ristorare voilà bene quanti sono? due ok poi 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 oh una palla di fuoco a te due palla di fuoco a te niente più palla di fuoco a te perché sei morto ah così che strana stanza sì ma non c'è mai non c'è mai un cazzo però ok sono un po' avidi di equipaggiamento cose varie o incantesimi anche va bene credo di aver fatto qui ora devo solo capire come disegnare questo pezzo qui dovrebbe essere una cosa del genere ok ok voilà ma che bella la mia mappa ho sbagliato ho fatto un muro troppo un muro di troppo ti è la leva l'ho premuta quindi qua dovrebbe essere tutto chiuso e bene ah qua mi manca qua sotto qua posso fare il bordo intanto perché non penso che ci sia nient'altro pure qua ok e credo anche qua ottimo allora adesso andiamo qui per andare lì quindi dovrei fare così così un amico finlandese che mi dice che qui fa caldo beh sì rispetto alla Finlandia insomma a quei paesi lì nel mentre io ho paura di non prendere abbastanza vitamina D oddio addirittura cioè è sempre buio è sempre oppure tu stai sempre dentro casa certo l'inverno se stai sempre dentro casa sei sempre nuvoloso magari sì prendi un integratore non mi sento di dire che qui fa freddo freddo però le temperature sono obbedibili ok il meteo no però immagino quello immagino ma per la vitamina D guarda a meno che veramente non ci sia sempre nuvoloso oppure che tu stai sempre costantemente chiuso dentro casa non credo che dovresti avere problemi si vive bene come si dice? eh bella domanda ai nostri occhi di poveri italiani sembra spesso un posto al limite con l'utopico clima e meteo a parte ovviamente intendo in generale come qualità della vita eh sì sì bella domanda nel frattempo io sono dove sono? ah mi sono incastrato qua ok ok eccoci sono qua ah perfetto grande eh chiuso oddio dal lodo è meglio perché così non mi devo sbattere ulteriormente ok e basta no? questo è finito ma poi non c'era un ah eccolo c'era questo coso qua che dovevo ancora controllarlo no adesso voglio tornare qui sopra no adesso voglio tornare qui sopra potevamo desumerlo dalla parte che mancava per arrivare alla fine del foglio sì 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 no no nel senso speravo ci fosse qualcosa proprio di cicciotto e succoso da mettere nella saccoccia va bene allora ora dobbiamo tornare indietro volevo andare in questa porta qui intanto allora torniamo indietro p p p p p siamo qui p p p p siamo qui ok di qua eccoci qua dunque questo è il teletrasporto dell'altro livello poi che bello vedere le cose per come sono davvero mamma mia che cacchio di livello assurdo però i buchi non li vedi eh per quello che sono bastardi dovrebbero essere l'illusione anche quelle eh signor gioco vabbè diciamo che te la te la abboniamo questa una pozione ok e poi di qua di qua buongiorno beh ho finito praticamente di di prendere mamma mia di prendere cazzo c'è gente ancora di prendere incantesimi di attacco dopo la palla di fuoco a meno che non c'era qualcun altro ancora più forte tipo che ne so la tempesta di fulmini e cose del genere non mi ricordo quali erano gli altri no qua ho sbagliato vabbè bisognerà vedere speriamo soprattutto di trovare eh sì perché mi stava rompendo veramente tanto le palle questa cosa questa cosa uh che cos'è una spada una spada una spada pastarda one hand melee 4-9 danni fisici la spada di fuoco esatto io questa però la segno in onore dei vecchi delle vecchie abitudini che ormai come potete vedere non è che stia proprio adottando più ho sbagliato guarda la miseria spada ok c'è un altro di questi cosi non mi avvelenano più eh ah ok qui è chiuso perfetto a posto io che ero preoccupato ehm ok però allora da questa parte ah ok forse è di qua che devo andare ok va bene andiamo di là allora per andare di là come si faceva ah devo prendere il detasporto non riesco a capire come si può ma allora secondo me questo pulsante che hanno messo qui nel muro è solo per farti venire voi e basta non credo che si possa premere ok ora siamo qua no aspetta dove siamo ah ora posso disegnarlo finalmente siamo qui eh questo lo segno però uno 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 bene giustamente è già disegnato perché c'ero già stato solo che non ho iniziato a scriverlo bene qui si va sotto qui c'è il coso finto e ci si riallaccia tutta la zona sotto e allora di qua come faccio ad andarci? mi manca qualcosa sì mi manca palesemente questa zona qua eh no le pareti illusorie non le vedo quindi non ci sono perché c'è l'anello chicken leg e no vedi dove sono adesso ah vedi vedi che è una zona chiusa ah forse ci si va ah ma vuoi vedere che cos'è questo questo è semplicemente l'area per gestire i buchi tutto qua cioè quando cadi in questi buchi che ci sono qui sotto sicuramente non è niente di che aiuto così ok sì ok sì questa è sicuramente quella quell'area lì per i buchi sì e no diciamo che qua i prezzi sono veramente senza senso è molto cara la vita lì fai fatica a trovare la carne sotto i 20 franchi al chilo che non so quanti sono però detto questo da quello che vedo in giro sto ancora studiando gli stipendi sono considerate più alti immagino quindi è tutto bilanciato se lavori qui non è male tutto sommato ok ci sono alcune regole stringenti a cui ci si deve abituare ad esempio se sbagli il giorno dove metti fuori la carta rischi la multa vabbè mi sembra comunque giusto no e inculate come la serrafe però sono cose a cui ci si può abituare e sopportare cos'è la serrafe è molto comune che la gente vada in germania a fare la spesa ah ma dai a fronte delle regole delle muti c'è comunque un servizio adeguato va bene sì certo va bene io direi che ho finito di disegnare la mappa è molto bella molto carina però dove caspiterina devo andare per andare all'altro livello cioè mi son perso un mi sono perso un come cazzo si chiama un teletrasporto vabbè comunque proviamo questo questo coso l'avevo attivato non lo so proviamo no non ho sbagliato qua ok ok così è giusta allora dobbiamo tornare di là siamo qui e qui ci dovrebbe essere allora intanto la leva l'avevo tirata sì l'avevo tirata perfetto quindi è comparso questo simpatico teletrasporto bene e ora siamo qui eh provo provo a provo a cadere nel buco e vediamo se effettivamente no col cavolo non è non è assolutamente quello il posto perché siamo andati a finire qui sotto no non proprio qui siamo andati a finire qui ok va bene poi allora eravamo andati di qua non è che c'era un gran che altro qui giusto no c'erano tutte cose praticamente vuote ma io dormo intanto poi siamo qui ah no ma c'era ma che scemo come se non c'era e come se non c'era il teletrasporto eccolo qua e mi sembra anche abbastanza grande anche allora livello 6 sicuramente voilà ok stiamo procedendo a passo spedito devo dire livello 6 a che altezza siamo più o meno in basso in basso in basso perfetto vai allora io direi proprio pelo pelo no tipo tipo così che dite troppo pelo pelo si troppo pelo pelo così bene questa è musica un po' un po' strana pipipi 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 che bello che bello andiamo nel dungeon pipipipi ok 300 franchi che devi pagare all'anno perché si è una tassa sulle reti svizzere la paghi anche se usi solo il telefono e nessun altro device collegato alla rete ah ok ok ah è 1 a 1 più o meno quindi mazza wow leggermente a foro del franco ok ho capito va bene ci sono diciamo delle particolarità ecco che però tutto sommato immagino che per quello che poi hai in cambio rispetto all'Italia anche anche forse a livello di di cultura proprio nel senso cultura del rispetto delle regole del fisco immagino ci sia poca evasione o no ce n'è tanta anche lì se questo permette poi di avere un buon servizio di wifi che lui non è male almeno eh sì certo 300 franchi wow madonna come il canone della Rai bravo sì la musichetta pop vado ah dunque un pezzo di torta in mezzo alla stanza oh questo è salve 9 danni atomizzato perfetto wow che stanzoni oh finalmente uno stanzone come si deve allora piano 1 2 3 4 1 1 2 3 e 4 qui c'è la porta e qui c'è la nostra leva che andrò tosto ad aprire lasciamo stare e continua a combattere con i murili a vento qui quando dico ai colleghi che se non posso non mi fanno lo scontinuo io non ci guarda lasciamo stare ti capisco benissimo Che cos'era quello a fare Un blob A 8 danni Ok ma perlomeno non è Ma non è brutto Perlomeno non è immune al fuoco Oh Io in genere se non mi fanno scontinuo Non lo chiedo intanto Poi se la cosa è reiterata Effettivamente poi ci sono delle Conseguenze Nel senso che non ci vado più Ma in genere se lo chiedi Almeno qui Fanno un po' la faccia storta Credo di aver sbagliato Ecco come questa impressione Cominci a essere tardi? Eh si certo che cominci a essere tardi Ho dimenticato un'intera stanza Ma proprio di brutto l'ho dimenticata Ok E' la musica che mi distrae E' troppo allegra Mi fa proprio perdere Di vista la La concentrazione Ok Bene Per il momento Tutto ok Un cubo gelatinoso piramidale Sembrava Intanto c'è qualcosa Questa mi serve Lo sai che sembrava? Sembrava un bambino Con il lenzuolo Quando fai Halloween E impersonifiche Cioè ti vesti da fantasma Più che un blob Aspetta aspetta Qua è un casino Uno due tre quattro cinque Uno due tre quattro cinque Poi fa così E qui è così Sto resistendo all'impulso Di copiare la mappa Direttamente Apprezzatela questa cosa Per favore Oh c'è un blob Vedi Sembrava un bambino Con i buchi Sul lenzuolo E le braccine Che Che fanno Uuuuh Ok Allora Ah ok Qua è Qua è semplice Noi siamo Sbucati da qua E quindi possiamo Fare così E così Perfetto Allora qua c'è una porta Che ora andiamo a aprire E qua c'è un'altra porta E qua ci sono le leve Una leva E due leve Molto bene Eh sì infatti Se mi fai girare le palle Che fai la faccia storta Certo Sono concorde Anche perché Noi dipendenti Ci abbiamo L'inculata Che non è che possiamo Avere Cioè non abbiamo scelta No Quindi Cerchiamo un po' Di pagarle tutte Merda Sto non so Senza mana E sono distratto Per fortuna Avevo le pozioni Mazza quanto fate male Comunque questa cosa Che siamo ancora Maledetti È una rottura di coglioni Puoi morire Per favore Grazie Pizza Margherita Di balle spaziali Ah anche è vero Allora questa Io la prendo Visto che ho spazio Comunque tutte ste chiavi Secondo me le potrei anche buttare Ho sprecato una Palla di fuoco Perfetto E tutte queste chiavi Potrei anche buttarle Secondo me Comunque Vabbè Allora Qui è fatto così Qui è fatto 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E poi scende E qui è fatto così Qui c'è una porta E qui c'è Un altro interruttorio Interruttorio Cosa del genere Madò Che sei? Fa male Fa male Volevo Volevo comunicarvi Questa cosa Poco piacevole Ma Ma fa male Ok C'è una mazza Quante porte Che ci stanno Interruttore Ma Ho sbagliato Oh c'è qualcuno lì Eh ma Ti prendo da lontano Caro però 8 danni Morto Eh mi sa che ho sbagliato Eh Un no 1, 2, 3 Sono 3 No Ho sbagliato qui Mi sa 1, 2, 3 4 1, 2, 3 Ah Qui ho sbagliato Ok Ok Ora si Avevo fatto la solita La solita Parete in più Pi 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 Ah qui è chiuso Perfetto Ok Possiamo aprire questa porta C'è nessuno? No Chi va delle tasse sta rubando Certo E visto che i soldi delle tasse servono per fornire servizi alla cittadinanza Mi è compreso Vuol dire che stanno rubando anche a me Precisamente Dovrebbero indicarle se non servono più Sì sono d'accordo Perché soprattutto se mi metti 2, 4, 6 Ho 10 spazi Nell'inventario Cioè dovrebbero prendere Esempio per esempio da Resident Evil No? Che te lo dice proprio Questo oggetto puoi buttarlo perché non serve più Dormire Allora Ah Così? Finito? Non c'è niente? No Niente Perfetto Quindi Fatemi un attimo fare il punto della situazione E anche fare un po' di bordino Che fa sempre comodo Ok Andiamo di qua Oddio C'è un bel po' di cose da vedere Devo dire Continuiamo Vado sopra Dai Apriamo questo Glob Salve Ok Giù di lì Solita Solita Canzona Ok niente dormo si comunque tu hai ragione Pietro però il problema è che per la maggior parte delle persone che poi chiaramente evadono la cosa non è minimamente vista come un problema anzi è sistemica alla fine cioè è la normalità è che vuoi che sia ok tanto lo fanno tutti queste cose a me mi andano proprio il cervello in in overload perché si radicalizza proprio nella nostra cultura no? poi ti credo che è difficile da combattere allora lì c'è un fantasma beh io ormai li chiamo fantasmi oddio 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 ce la farò? ti prego muori ok ciao vado a dormire scusate mamma mia che rischietto salvo ok vado giù dove vado? vado giù si ma dove sono? qua vado giù mi sembra che giù sia il posto giusto perfetto allora praticamente qui è così credo così porta porta e poi c'è la cosa su e qui ci sono i pulsantini un pulsantino e due pulsantini ok vado l'ultima volta mi hanno detto tu hai ragione ma se lo fai solo tu a che serve perfetto e tu gli hai risposto a parte che non è vero che lo faccio solo io esatto basterebbe che cominciassi a farlo anche tu esatto visto che è quello capito è quello il problema come fai a combattere una cosa del genere se la gente ormai pensa che è normale o che non serva a nulla perché tanto gli altri poi fanno e allora ho capito ma se non inizia qualcuno allora cioè non si fa più niente c'è qualcosa giù siamo arrivati alla fine oh proprio la fine 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 della mappa eh eh lo sapevo che c'eri tu mannaggia niente pizza ma io preferisco dormire a questo punto comunque se ne vuoi avrebbero dovuto non so limitare un po' questa cosa che puoi dormire ogni tre secondi e mezzo cioè è comodo però vanifica proprio completamente il fatto che puoi avere problemi di mana perché basta che comunque alla fine di ogni scontro vai a rintanarti nel tuo angoletto sperduto e recuperi un po' tutto oi addirittura livello vabbè io sempre mind faccio ma siamo glass cannon proprio inside ma dove sto ah siamo qua sopra ok ok così e poi voilà qui c'è una porta qui c'è un pulsantino anzi una leva e qui è tutto dritto oddio oddio che ho fatto ho combinato qualcosa ho combinato qualcosa ho combinato qualcosa si ho combinato qualcosa mannaggia a me si ho sbagliato qui nooo ho sbagliato proprio di brutto qui cavolo tutta questa parte qua devo spostarla di là c'era un modo mi pare aspetta seleziona ce la posso fare? si eeeh no vabbè forse si e poi per copiare ctrl c e con ctrl c ctrl v oh bello oh miracolo angennaro ha fatto un miracolo ok i potenti mezzi a nostra disposizione ci hanno permesso di fare questa cosa e quindi devo togliere questo e devo togliere questo e voilà in un battibaleno abbiamo risolto la situazione ok quindi qui si ricongiunge qui si ricongiunge e siamo a posto bene molto bello questo tool si molto bello non smetterò mai di fargli pubblicità scaricatelo compratelo costa tipo 5 euro si chiama il winters il winters floor plan generator certo magari è un nome un po' più orecchiabile gli avrebbe permesso di fare un po' più di soldi forse comunque il nome è questo c'è qualcuno sono sicuro no non c'è nessuno ok anche se non giocate di ruolo di ruolo compratelo lo stesso vi fate la vostra mappa della casa del giardino franciccio lo ha usato per fare la mappa del suo giardino infatti il famoso giardino di franciccio che abbiamo incontrato spesso in eye of the beholder la mappa del solaio che ne so qualcosa insomma avrete bisogno di una mappa almeno una volta nella vita oh questo è grosso però che vuol dire chi sei putrid blob esatto niente ormai sono talmente forte che non c'è niente nulla rappresenta un ostacolo e una sfida per me ormai sono sto padroneggiando il gioco come solo un mago può fare ok carino questo livello comunque molto simpatico no devo dire che sono carini i livelli come struttura anche se c'è questo limite delle mappe perché se se vi ricordate mi sa che oh c'è un'ascia vabbè l'ascia tanto non posso usarla se vi ricordate eye of the beholder per esempio aveva delle mappe veramente fuori di testa allora devo salire sì avevo fatto una vabbè capita molto spesso di fare una parete in più e quindi poi devo slittare tutto però per fortuna ci sono riuscito a a tagliare incollare diciamo mi ricorda un po' i vecchi never winter nights dove potevi riposare praticamente ogni due passi eh sì avrebbero dovuto fare non so forse forse bastava aumentare il raggio del nemico nei paraggi no però tu dici tanto io posso anche andare dall'altra parte della mappa a dormire potevano mettere un cooldown però tu dici aspetto non lo so non lo so come come si può gestire una cosa del genere sembra il nome del mio gruppo sul terzo cosa anche per inventare le mappe esatto certo infatti quello è usato principalmente dai dungeon master per creare le mappe delle campagne per stamparle per renderle per convertirle in pdf poi tra l'altro ora io perché sto usando gli elementi in bianco e nero perché è più comodo per voi visto che la mappa è in un angolino però ci sono molte molti elementi che hanno colori che sono anche tridimensionali tra virgolette poi come potete vedere è pieno di di texture vedete c'è l'acqua per esempio il fuoco quindi si possono proprio creare le mappe per la campagna di dnd poi la stampi e la e giochi su quella molto molto figo è su steam lascia lascia visto che il gioco è a turni potevano mettere un cooldown eh infatti infatti vabbè comunque a noi ci piace anche così wow che lunga sono qui credo sì sono qui ok madonna però quanto sono grosse queste stanze allora vediamo quanti quadretti devo fare 1 2 3 4 5 e 6 1 2 3 4 5 e 6 qui c'è un'altra porta qui c'è un altro polsantino e qui è tutto giù benissimo vado su direttamente no voglio andare di qua 1 2 3 4 5 e 6 1 2 3 4 5 e 6 c'è una porta e una immagino leva poi salve buongiorno oh cazzo ho finito il mana non ho dormito vedi tanto a me non serve la meccanica del cooldown perché mi scordo di dormire quindi mannaggia a me mannaggia a me stavano finendo le pozioni mannaggia 1 2 3 ok 1 2 3 vediamo un po' 1 2 e 3 oh giusto wow che bello mi tornano i conti ahia questo è il cursed putrid quindi probabilmente mi dovrebbe anche avvelenare in teoria no putrid forse è solo solo putrid e puzzolente non lo so ma non mi fate trovare nulla però no questa mi serve grazie bene ma che stai disegnando Darsh ma che stai a fa' è 3x3 oh così bravo ok mi sono fatto distrarre da Han e beh lui cerca sempre le coccole quindi poi alla fine è facile distrarsi e allora qui praticamente è fatto così così miracolosamente sono riuscito a non sbagliare questa parte di mappa qui c'è un'altra porta così e mamma mia ma che cacchio fai Darsh aiuto salve buongiorno ti vorrei lanciare una palla di fuoco così a gratis ok non posso dormire perché ci sono mostri in giro ok ciao vado a trovare un postecino più tranquillo grazie io devo riservare anche allora dicevamo dicevamo che qui è fatto così e così no 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 ho sbagliato oddio oddio che è successo che è successo ah che ho fatto troppi troppi scalini perfetto posto bene male ah che colpo poi di qua ah niente è chiuso no però non mi risultano tre dovrebbero essere due così uno due tre quattro uno due tre sì ok a posto pip pipi poi di qua è così piccolo cieco e addirittura ok oh salve anche lei qui il blob si azzurro mi ricorda il fatto che si azzurro mi ricordano slime dei manga che ho comprato e la cosa non mi piace non ti piace perché oh c'è un portale qui ah e c'è una pozione che non mi sa salve oi 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 quanto sei forte ok ah che scemo potevo usare questo vabbè ok allora eh scusate ma qua la copio perché sennò facciamo notte allora qui è così beh disegno le colonne così facciamo prima stavolta non entro nel portale o mi faccio fregare un'altra volta ok e qui c'è il portale che immagino porti da qualche parte quindi già scrivo uno così me lo risparmio se riesco a farcela non niente non ce la sto facendo ok ok grazie molto gentile perché lo slime lo smile del manga è buono ah ok lo slime ed è molto più carino di questo ok allora adesso andiamo ad aprire tutte quelle bellissime porte a cominciare da questa ciao completamente e desolata desolata desolatamente vuota darci ce la fai selezionare lo strumento giusto per favore grazie bene è vuota davvero è vuota davvero ok c'è qualcuno no e non c'è aspetta però c'è qualcosa di là porca miseria vedi la fretta potevo lì ma ne l'ho offeso c'è un incantesimo c'è un incantesimo ti prego ti prego la maledizione ti prego no no è slow fall mannaggia beh per carità bello è slow fall però in realtà no perché cioè non mi son mai fatto male cadendo e son caduto in un sacco di buchi quindi no e anche io ci ho creduto moltissimo allora ok oh ma qua sotto che c'era? no niente perfetto bene allora lì c'è il solito portale per proseguire quindi andiamo ad aprire le altre stanze non mi ricordo dove stanno di qua no ok uno è questo adesso puoi cadere più spesso ma stavo dicendo che cioè non è che mi son mai fatto male quindi non capisco a che serve forse più in là farà più male non ho idea ok e non mi sembra di vedere nulla a parte la pozione che vabbè la prendo tanto questo è weakness weakness aspetta aspetta ma sono ma sono anche wicked wicked eh cacchio allora devo perla non me ne ero accorto vabbè che tanto la forza non mi cambia nulla ma è però bene e niente manca una porta eh sì sì infatti me ne sono accorto all'ultimo momento beh questa me la prendo molto volentieri ma per il resto non c'è un'emerita ceppa va bene vai segniamo qualche muro va che è una delle cose più appaganti devo dire del disegnare le mappe non vi so non vi so spiegare perché ma mettere i muri è veramente un brivido di piacere non so non so che di appagante appunto ok potrei anche andare qui volendo eh in realtà potrei 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 sì io ci vado quasi quasi ma non è che questo è il proprio livello cioè abbiamo finito così aspetta allora facciamo così andiamo a vedere sotto no devo andare giù ancora più giù di qua e siamo qui eccoci eccoci e c'è tutta questa zona ancora da vedere eh 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 ti ho visto sai madonna mitragliatori sono proprio un m60 di di palle di fuoco allora qui c'è una porta con il solito pulsantino finiremo finiremo il gioco da maledetti beh ma che ti devo di alla fine sono pure tutti spessi quindi puoi metterli sempre esatto esatto se darsh fosse stato un carpentiere sarebbe stato felicissimo di costruire muri ovunque mamma mia tantissimo sarebbe stata la gioia della mia vita qui dovrebbe esserci la cucina potremmo farci un muro dal suo posto e e mangiare fuori esatto bravissimo su su just it just it che a proposito chiameremo domani perché io ho una voglia di cinese da non sapete quanto tempo ok allora vediamo uno due e tre bene uno due e tre uno due tre e quattro qui c'è una porta e qui c'è un'altra porta ok si mi sa che è finito il livello è tutto è tutto così questo livello con queste stanze strane tipo non so un grosso hotel dopo il giardino di franciccio l'hotel di franciccio beh hashtag hotel di franciccio sarebbe carino c'è qualcuno o qualcosa non l'ho detto non l'ho detto a caso mi conosci eh ok ho finalmente qualcosa porca miseria più due difesa mentre quello che abbiamo adesso è più una difesa ma ci protegge dal dal critico questo è una è un dilemma questo è il veleno quindi siamo immuni al veleno ecco perché non ci avvelenavano più stavo giusto chiedendo ma perché non ci avvelenano più perché siamo immuni che bello e alla fine per quanto riuscirò a venire a venire il coreano piccantesimo troviamo qualcuno non credo proprio non credo proprio no no tu portane per carità magari portane una cioè noi ordiniamo qualcosa da mangiare per tutti quanti e poi comunque io e te ci facciamo anche il piatto di 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 quello in là resort franciccio esatto ci possono giudicare di meno giusto non lo so a me questa cosa della protezione contro il critico non mi dispiace cioè 10% perché i critici qua per esempio se mi fanno un critico da 20 HP in realtà me ne fanno 18 però voi dite con la difesa non ti prendono proprio avete anche un po' ragione va va bene dai vi do retta ci hai fatto tutto da solo darsh sì lo so però è come se vi sentissi nella mia testa qui ci mettiamo l'elmo e disegniamo i muri che bello disegnare i muri abbiamo finito eh possiamo andare nell'altro livello proprio così questo è stato abbastanza semplice o sbaglio forse è un livello filler come si suol dire eccolo qui beh dai è carino eh comunque con tutto questo è l'hotel di franciccio proprio lui assolutamente allora ora devo tornare indietro però c'è un piccolissimo particolare di qua di qua di qua di qua di qua di qua di su 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 ancora più su notate che sto usando la mia mappa e non quella del gioco questo è questo è un tocco proprio a cui tengo tanto appunto e poi sbaglio di qua di qua siamo qui ora bene ed eccoci qua livello sette pom voilà jesuile livelle sette livello chissà quanti sono sono sul serio 20 secondo voi no non credo non ne ho idea oh in mezzo proprio ok dunque in mezzo è più o meno qua che cacchio stai facendo in mezzo è più o meno qua icona testo livello 6 olè eh salverei la mappa che dite non ho mai salvato la mappa fino adesso porca miseria mamma mia ok bevo tanto io ste schifezze le mangio e si vede ma eh non sono schifezze alla fine è come la pasta no cioè certo se te le mangi in continuazione si però il ramen quello da da ricostituire con l'acqua bollente cioè alla fine è come la pasta anche la pasta la la fai bollire no comunque ora cercherò se suggestite c'è qualcosa di coreano o insomma di appagante a livello di piccantezza ecco dove andiamo di qua di là oh di là oh c'è un qualche cosa da imparare e da leggere in questo questo livello sono già le 11 e mezzo ma mio dio ah sei attento al pavimento scivoloso bene perfetto chiaro chiarissimo bene quindi qua c'è il pavimento scivoloso ah carina come cosa come meccanica è come quei giochi di abilità che ci sono per i telefoni che devi percorrere queste strade e però non puoi decidere tu dove andare no vai fino in fondo senza possibilità di però aspettate che mi sto perdendo mi sto perdendo mi e sto perdendo siamo qui siamo qui beh comunque devo dire carina questa meccanica da mettere in un dungeon crawler no molto carina cioè adesso voglio vedere come faccio a navigarmi la mappa col pavimento scivoloso tipo adesso no ah no no qui si può scendere ok io faccio così faccio così e dovrei andare a finire là sopra e dovrei andare a finire ok di qua tutto tutto così ok credo 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 che sia così la mappa si molto bene allora adesso devo andare giù di qua su e tutto di là ok non c'è più il pavimento scivoloso e ci sono degli stivali è un interruttore questa stavolta è davvero un interruttore non è una leva non vedo più dove sono gli interruttori aiuto ok forse sono stivali stivali anti scivolo no sono due difese 20% critico wow complimenti stivali accendiamo questo ho sbagliato non è qua vado eh ah ok abbiamo aperto la porta sopra perfetto interessante e non credo sia spero non sia scivoloso no 1 2 3 4 e c'è un blob fanno malino 2 livelli così uno appresso all'altro hai visto? se senti voci nella tua testa dovresti farti controllare ma io sento le vostre voci dovrebbe essere una cosa di cui andare fieri no? da parte vostra intendo cioè dovresti essere contenti io farei un sì 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 infatti sto sto per salvare ho cercato quanti livelli ha vuoi saperlo? qualcuno ha passato la cena esatto no non lo voglio sapere per ora dai grazie 1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 oh c'è qualcuno lì? ti ho visto ti ho visto ops mamma mia che massacro con sta palla di fuoco certo però fanno male questi eh devo stare molto attento allora qui praticamente è una roba del genere ok c'è un altro pilastro eh devo shiftare tutto a destra perché ho esagerato destra destra eh che cos'è? cos'è cos'è quel coso? ce la posso fare? ce la posso fare? ce la posso? no niente non ce la posso fare abbiamo parlato Cristo grazie bellissimo eh questo programma però ogni tanto si si incrista come diciamo a Roma a non ci sto capendo moltissimo ma credo che credo che sia così ok andiamo a vedere cos'è eh una bacchetta una bacchetta palla di fuoco ok però a che mi serve io sono mago no hai scritto io salverei quando hai detto che salvavi custodirò girosamente questo segreto grazie poi magari più avanti te lo chiederò sarai il subutai di shadow sergoz esatto la bacchetta palla di fuoco boh ma io che la prendo a fare ah giusto certo dovesse certo 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 no no è utile è utile dovessi per caso 100 hp 30 hp dovessi per caso trovarmi in una situazione in cui finisco il mana e non posso fisicamente ucciderli mi metto la bacchetta e via non me la fa mettere però perché a perché non me la fa mettere devo togliere questo ah sì ok giusto ok va bene bello molto bello allora poi qui è così abbiamo detto sì oh oh c'è un amichetto lì porca miseria quanto sei infamello allora madonna qua è un casino però così 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 ma io volevo anche andare di qua a vedere che c'è un'altra pozione che io prendo al volo perché queste sono importantissime ah qui è chiuso così ok ok e finora ci siamo adesso voglio scendere un attimo di qua ah qua è chiuso ok un panino e io dormo non posso dormire bene bene ah facciamo un po' di di carteggio con le pareti voilà bene allora niente mi rimane solo da andare su non ti riescono già più a colpire ogni tanto sì però sì devo dire che sono parecchio forte però sono anche credo abbastanza cioè nel senso se mi colpiscono e mi ingaggiano e mi fanno e mi mettono un po' alle strette mi fanno veramente male cioè sono effettivamente un glass cannon e mi sta bene così qui non c'è niente non c'è niente salve quanto sei lontano mi piace quando sei lontano vedi comunque mi tolgono un bel po' quando mi colpiscono guarda lì un'altra pozione va bene non c'è niente non c'è niente non c'è niente Complicata eh questa zona Ahia ecco qua Ho finito il mana Ah E mo Potrei Usare questa Mamma mia Mamma mia Sono quelli rossi Si fanno un po' malino Ecco Avevamo appena finito di Di dirla questa cosa Allora qua praticamente è così 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 Ah è chiuso ok Ma che cavolo di livello Vabbè Sono quelli Cursed no? No putrid Non posso dormire Mamma mia però Pozione Anti Anti indebolimento Ah grazie A posto Detto fatto Ok Almeno abbiamo chiuso questa Quest'area Più o meno Quindi siamo lì Adesso potrei andare a vedere qua che c'è Dov'è che sono? Dov'è che sono? Ok sono qui Ma qui sopra pure Dove vai Dove vai Ah ok Qua c'è un piccolo cieco Perfetto Ok Mentre qui Sal Ecco Sapevo dove dormire Ah però sono quelli blu Forse lo riesco a uccidere Sì Molto bene Siamo lì Bruce Lee Ok E tu che ci vai qui? Piccolo cieco Comunque anche questi blu Effettivamente colpiscono qualche volta Sì Fanno un parecchio meno male In effetti Però si colpiscono anche loro Oh oh andiamo prima dal rosso guarda lì che dolore cazzo ti sei attivato pensavo di avere il tempo di di girare un attimo di là madonna no no ma come save no vabbè fortuna non è non è troppo lontano non mi aspettavo che mi seguisse pensavo che se ne stesse fermo lì invece ha sentito il il subbuglio diciamo del del combattimento con l'altro suo amico ed è venuto a rompere le palle oh cazzo però sto andando cazzo sono andato dove non dovevo andare no 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 non voglio andare qui no 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 sono putrefatto e lo so ma non posso farci niente quindi ecco adesso si ok quindi adesso dobbiamo andare qua sotto vabbè ciao workhiter buonanotte grazie mille della compagnia mi ha fatto molto piacere vediamo in giro sicuramente lo sapevo devo stare attento cioè devo devo veramente stare molto più attento ok salvo allora ah ma tanto stacco anch'io tra poco perché insomma allora intanto vediamo dove sono sono qui ah ok ho fatto un altro po' di rob e poi lì c'è il punto maledetto va bene eccolo quindi uccidiamo prima questo rosso addirittura ci siamo passati di livello ok ebbè allora possiamo andare a uccidere quello blu tranquillamente ah ti ho fregato ti è beccate questa beccate questa e beccate anche un pochino questa yes ok bene allora adesso io andrei forse su forse su si ricongiunge un attimo a a tutta la situazione di prima no no c'è qualcosa che non va ok ora si un panino ok ok così 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 ole ok qua ovviamente si ricongiunge oh salve madonna mia che colpo però quando ti appaiono davanti al naso sono maledetto oh grazie appunto oh c'è un incantesimo c'è un incantesimo c'è un incantesimo chissà chissà speriamo che sia la maledizione perché ne la posso fare ok vediamo dove sta ma me lo sognato ah eccolo revitalize no revitalize no devo prenderlo giusto revitalize no mi sa che non è non è quello no che cos'è ah cura ma che cazzo dici di di darsh non era il revitalize si il revitalize però cura la weakness quindi non ho più bisogno delle pozioni si delle pozioni gialle ottimo molto bene molto 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 yes cura la weakness allora ora possiamo andare sotto ok c'è una appunto una pozione gialla che non ci serve più e mi sono sbagliato porca porca di quella porca cosa ho sbagliato qua è giusto però qua è giusto quindi per fortuna non è niente di grave ah no è semplicemente no è giusto 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 falso allarme sono le 11 e tre quarti anche per me dica la bevo ah a sapute fa oh cacchio grazie me ne ero accorto vabbè poi dormo perché così ok vai vai oh mio dio non l'avevo visto madonna però quanto era tosto questo ok e ho perso il filo ho perso il filo ho perso il filo dove sono dove sono non qui si oddio ma così grosso è qua no c'è qualcosa che non va no 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 ma intanto c'è una chiave bene bene molto bene ma è assolutamente sbagliata la mappa qui esatto questo qua è più in alto ok così olé bene sì siamo qui devo andare solo a vedere questo piccolo cieco magari c'è qualcosa non c'è niente perfetto allora adesso l'unica cosa da fare oh no no c'era anche questa zona qua io volevo andare sopra oddio come ci si arriva sopra adesso così 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 no troppo troppo su così così e voilà 1 2 3 4 5 e 6 1 2 3 4 5 e 6 ah guarda un po' qua un'altra stanzetta di quelle che piacciono a loro oh salve mi stai immaginando la scena del corvo dove la gang urla fuoco e fiamme ma invece siamo noi che urliamo riposa e salva non fa lo stesso effetto non fa lo stesso effetto ah sono ancora indebolito? ok allora ci curiamo voilà ok così sì 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 ok qui viene così e così tante pozioni ci sono qua se mi facessero capire se posso togliermi le chiavi dall'inventario sarebbe carino è pieno di pozioni ok qui c'è un coso blob sto pensando alle porte a livelli più sotto dovremmo averle aperte tutte eh sì però che ne so se servono ancora magari posso fare così le lascio tutte in un punto facilmente raggiungibile cos'è una k? clock of life più 4 hp ogni 4 turni wow mi rigenera carino aspetta lasciatemi barare un attimo perché sto sto affondendo cos'è una k? così eeeh no ho sbagliato ho sbagliato è così che poi qua fa così 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 e così o leh o leh per cui meno dire che possono non segnalarlo perché ce ne manca qualcuno e poi mi servono tra cinque livelli e non lo so e lì c'è una chiave infatti ammazza è chiuso così ok ah vedi di qua dovevamo andare da qui vabbè e niente abbiamo finito questo pezzo ah no aspetta c'è ancora questa parte qui ah eccola blob perché non ha funzionato il la pozione strano allora oddio non ci sto capendo niente dove sono? ah sono qui credo oddio un altro ce n'è ahia questo non l'uccido dovevo dormire porca miseria oddio si ce l'ho fatto salvo quindi qua è così così ok ciao ciao così stanno incrociando i occhi che è successo? non si sa ok qui è chiuso io spero che non stia facendo errori c'è un blob c'è un blob così così c'è una pozione incredibilmente mi torna la mappa non so come cacchio ho fatto mamma mia aiuto no non è così non ci sto capendo cazzo sto sto completamente mi si sta incrociando gli occhi proprio non ce la faccio più allora così ah ok qua è sbagliato ma che cazzo ok ah lì c'è la porta ok qui c'è la famosa porta e va bene e non mi ricordo neanche più che cosa abbiamo usato forse questo ok questa però la apriamo la prossima volta perché ora non la posso fare si vabbè guarda l'ho messa ok poi quindi qui va bene così qui è tutto sbagliato così no dovevo dormire ok meno male quindi qui è praticamente così no la gialla non è l'antidoto credo la gialla è solo per la debolezza intanto comunque il winters me lo sono comprato sta in sconto 5 euro infatti si 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 guarda hai fatto bene perché è carino proprio credo che la parete lì dove è corretto continua dove così poi siamo qui e siamo qui mamma mia così e così e basta ok cerco un attimo di mettere un po' di muri perché se no non ci si capisce niente ok poi qua sopra dobbiamo andare in teoria si ora salvo tutto e no volevo volevo andare prima prima di entrare nella porta volevo andare qua sopra oddio anche qua sotto dovremmo entrare aspetta 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 allora intanto qua sopra è facile perché basta che torno di là e qua eccoci salvare quindi ora siamo qui giusto sì oddio 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 mi sto rincoglionendo credo sia così no sì è una tonda però ok ok questo è così ma che cazzo ma perché fare le cose oblique perché premo sbaglio il tasto sbagliato cazzo mi sa che c'è un altro di là oh ma quando è che muori ce n'era uno dietro ottimo uccidi tutti e due cos'è 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 più quattro difesa più trenta critico difesa mentre quello che c'ho io due difese e dieci wow questa è una roba bestiale intanto io qua la disegno con la mappa perché non ce la faccio più ah bestiale questa questa cesta ok vorrebbe essere finita questa stanza allora ovviamente qui è così ti can grazie buonasera sono giorgio darsac mi ha rinchiuso in un'area del dungeon che ha sbagliato a disegnare apposta no non è vero qualcuno chiami un elfa dei boschi a salvarmi eh sì certo cos'è questa cosa di fare le cose oblique un elfa dei boschi vorresti chiamare mica scemo Giorgio dio santo mi stanno incrociando gli occhi così 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 suppongo così e così e questo dovrebbe essere fatta poi questa va giù così adesso non so di quanto ora lo scopriremo ok 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 ce l'abbiamo fatta diciamo e questa dovrebbe essere fatta è la stessa cosa che dico anche io ogni volta esatto ok ah qua dobbiamo scrivere il cesto ma tanto non credo che lo useremo mai ora manca solo questa piccola parte qui quindi quindi dobbiamo tornare indietro e indietro dove cazzo piterina sono no non così intanto indietro ok 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 aspetta ma lì mi sa che c'è la parte con col pavimento scivoloso sarà divertente eccolo yoohoo ok ed eccoci qua chissà chissà per cosa abbiamo fatto tutta sta strada vediamo no no ok comunque no non è putrefatto è indebolito ma chi chi è che mi indebolisce sono quei blob rossi forse ok allora qui devo fare così oddio non sto capendo molto ma è così è una roba del genere sì è una roba del genere ok sono i bob rossi bastardi madonna se fanno male eh si sta 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 ancora tostendo poverina ok oh ci sono wow un bel po' di di buchetti qua c'è un no no Pietro no 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 c'è un teletrasporto di là iaiai tosta questa e ora come facciamo c'è un buco qua un buco qua un buco qua e un buco qua e un pulsante qua che te la pinte il culo bravo esatto ok dai a vedere che dovevo entrare qui e che qui c'era tipo il pulsante per togliere i buchi e quindi ora devo ritornare indietro per tutto il dungeon buonasera sono giorgio non ho capito bene serve una mano coi buchi no 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 giorgio tranquillo tu tu rimani tranquillo dove sei eh mi sa proprio che è così eh ragazzi io salvo il dungeon eh bisogna andare a vedere che scherziamo a meno che non sono buchi finti posso provare a vedere se sono buchi finti oddio c'era una pergamena lì questo è decisamente un buco vero e dove siamo si va bene ho capito ho salvato dove siamo ah siamo qua accanto ok no proprio no proprio no no ok bene torniamo su zippete vabbè immagino che siano tutti quanti perché giustamente c'è proprio la forma quindi immagino che siano tutti veri ci riproviamo si sono tutti veri e niente mi sa che ragazzetti bisogna fare madonna quanto 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 è bella questa pergamena dai proviamo a tornare indietro al volo tanto è un attimo ah cazzo qua c'è il pavimento mannaggia che palle dove sono qui questi buchi che invece di farti scendere ti spostano di lato esatto vabbè quella è diciamo una chiudiamo gli occhi dai chiudiamo un occhio per questa cosa è una una comodità a loro per non fare mappe che scendono salgono allora di qua e poi giù non so dove sono ah perfetto basta c'è un senso di orientamento proprio automatico ok abbiamo aperto la porta e vediamo c'è un bel mostretto allora attenzione c'è un portale spero tanto che mi porti oh c'è un martello qua un martello da guerra fa un sacco di danni che palle qui immagino che sia così oh che cavolo ok qui è così qui c'è il martello ok e qui c'è un portale molto bene allora il portale io spero che mi porti qui dovrebbe qui c'era un portale se non erro no perché altrimenti se mi fa andare all'altro livello no non va bene mi fa andare all'altro livello cocchio livello 8 cacchio allora mi viene in mente solo che intanto che questa cosa mi sa che non c'era mi viene in mente solo che devo tornarci in futuro con il levitet perché non ho modo adesso di di farlo slow fall non è che slow fall e levitate no vero no non credo cioè no assolutamente no slow fall serve a non semplicemente a non prenderti danni è che mi sembra strano perché sono veramente pochi danni che ti prendi no damage for 100 turni vabbè quando cadi da un buco quello che ci serve a noi è o levitation o jump over a square che però non abbiamo ancora no 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 a parte che devo andare dall'altra parte della mappa e non mi va ma non credo che no c'è proprio scritto non prendi danni quando cadi nei buchi quindi vuol dire che ci cadi nei buchi cioè non c'è poco c'è poco da fare vabbè niente secondo me lì ci dobbiamo tornare il problema è ricordarselo ti lo ricorderemo? chi lo sa lo scopriremo la prossima volta intanto metto il segnalino per ricordarci dove siamo così la prossima volta abbiamo un livello nuovo proprio da da vedere eccoci qua il nostro segnalino io salvo 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 benissimo salvo anche qui a posto e esco eccoci qua commit a posto allora io vi ringrazio tantissimo della compagnia del supporto grazie Pietro per tutti i bittini e per l'abbonamento noi visto che ci siete vi dico che la cosa che dovevo fare oggi è slittata la settimana prossima quindi se tutto va secondo i programmi la settimana prossima ci vediamo venerdì e non sabato se dovessi spuntare a sorpresa il mercoledì ve lo faccio sapere come al solito va bene grazie ancora buonanotte passate un buona domenica e ci vediamo venerdì o prima chissà ciao ciao grazie ancora grazie a tutti